Quello è l'accesso principale alla città di Lecce, questo invece è il biglietto da visita di pieno degrado che turisti e visitatori si trovano di fronte. Sono lasciate così da mesi le aree in cui sono stati effettuati i saggi archeologici che hanno portato alla luce il fossato alla base della cinta muraria della città. Saggi coordinati dal professor Francesco D'Andria dell'Ateneo Salentino e che sono serviti a integrare il progetto definitivo per la riqualificazione dell'ex Carlo Pranzo, progetto depositato nel 2011 in Regione. Si aspetta un finanziamento complessivo di 4 milioni e 900 mila euro a valere su fondi europei e che dovranno servire non soltanto alla campagna di scavi su tutto il fossato da riportare alla sua profondità originaria, ma anche alla riqualificazione delle mura da rendere percorribili nella sua parte superiore e sul retro e per la trasformazione a parco verde dell'attuale parcheggio, con la sistemazione del terreno su una sorta di declivi e su livelli che degradano verso le mura. Un'opera meritoria, certo, ma non realizzabile nel giro di qualche settimana però. E il problema è cosa accade nel frattempo in questa che era l'area che accoglieva una volta il campo sportivo di Lecce. Le immagini hanno bisogno di pochi commenti. Non solo gli scavi abbandonati su cui crescono le erbacce, ma anche le reti a protezione di velte che rendono il sito decisamente pericoloso, soprattutto per i bambini. Tubi per terra e rifiuti e fioriere non più utilizzate ma ammassate tutte insieme su un lato. Per non parlare poi del parcheggio, strade gruviere impraticabili, giase asciutte, impercorribili quando piove, quando qui si formano pozzanghere profondissime. Non si vedono neppure i piedi per quanto è profonda una delle tante buche che a causa della pioggia si sono create qui, in questo che, a dire il vero, è uno dei parcheggi di interscambio più importanti di tutta Lecce.